Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Andrea di scommesse.commenti e recensioni.com e insieme a Michele Marcello vi regaliamo ogni settimana i nostri pronostici gratuiti sulle partite di Champions League. Oggi infatti siamo qui per i quarti di finale della Champions. Prima di cominciare però vi ricordo due cose importantissime. La prima è quella di mettere like a questo video e iscrivervi al nostro canale, attivando la campanella mi raccomando. E la seconda cosa è quella di guardare video fino alla fine per non perdervi nessun nostro pronostico futuro. Detto questo cominciamo con la prima partita, ovvero Milan-Napoli che si terrà il mercoledì 12 aprile alle ore 21 a San Siro. I migliori siti di scommesse vedono favorito il Napoli, infatti sulla lavagna di Marathon Bet l'1 è bancato a 2.35, la X a 3.30 e il 2, cioè la vittoria del Milan, a 3.10 volte la posta. Per quanto riguarda il pronostico esito finale 1x2 troviamo l'X2 pagato 1.35 su Snipe.it e 1.37 su Planetwin 3.65. Per i pronostici degli esperti su Milan-Napoli invece troviamo gol quotato 1.77, under 2.5 a 1.70, 2 più over 2.5 quotato 3.90. Come risultati esatti abbiamo scelto l'1 a 1 o 0 a 1 pagati 6.25 e 7.75 su Snipe e come esito primo tempo X a 2.35. Prima di continuare vi ricordo che se dovete ottenere il bonus di Snipe da 6.25 euro dovete cliccare sul primo link in descrizione, ora vi mostro come fare. Se siete da PC dovete scorrere il video, cliccate sul primo link in descrizione, dopodiché vi si aprirà questa pagina, ora cliccate su avanti e compilate i campi richiesti. Se invece siete da cellulare dovete premere il pulsante in alto a destra, poi cliccate sul primo link in descrizione, vi si aprirà questa pagina, cliccate su avanti e compilate i campi richiesti. Vi ricordo inoltre che tutti i bookmaker presentati nel nostro canale sono legali a 100% e in possesso di licenza, rilasciata dall'Agenzia di Ogane Monopoli che ne garantisce sicurezza e affidabilità. Eccoci arrivati alla seconda partita di oggi, ovvero Benfica-Inter, che si terrà martedì 11 aprile alle ore 21 allo stadio Dallas di Lisbona. I migliori siti di scommesse vedono favorito il Benfica, infatti sulla lavagna di MarathonBet l'1 è bancato a 2,25, la X a 3,30 e il 2, cioè la vittoria dell'Inter, a 3,30 volte la posta. Per quanto riguarda il pronostico esito finale 1x2, troviamo l'1x pagato 1,32 su snai.it e 1,32 su Planet Winter S5. Per quanto riguarda i pronostici degli esperti su Benfica-Inter abbiamo il no goal a 1,85, over 2,5 a 1,65, 1 più over 2,5 quotato 3,85, come risultati esatti abbiamo scelto l'1 a 1 o 1 a 0 pagati 6,25 e 7 su snai e come esito primo tempo X a 2,40. Prima di terminare il video vi ricordo che se volete ottenere il bonus di goalbet da 330€ dovete cliccare sul secondo link in descrizione. Se siete da computer dovete scorrere il video, cliccare sul secondo link in descrizione, dopodiché vi si aprirà questa pagina, ora cliccate su registrati e compilate i campi richiesti. Se invece siete da cellulare dovete premere il pulsante in alto a destra, dopodiché cliccate sul secondo link in descrizione, vi si aprirà questa pagina, ora cliccate su registrati e compilate i campi richiesti. Per oggi è tutto, se ti è piaciuto questo video ti invito ad iscriverti al canale, attivare le notifiche cliccando sulla campanella e condividere il più possibile in modo da far vincere anche i tuoi amici. Buone scommesse!